va bene ragazzi ci provo a fare qualcosa per insomma per un po come dire chiarire tra virgolette tutto quello quanto ho scritto nella discussione che abbiamo tre punti di sviluppo di un progetto per un puzzle la prima cosa è definire che cosa vogliamo fare quindi siamo capaci di creare un disegno io se devo disegnare un cavallo ne sono capace quindi c'è la sagoma del cavallo ovviamente qui si capisce che la sagoma è sì è un cavalluccio si capisce per carità non è una critica a se stessa tanto per parlare male no ma insomma diciamo che poteva essere un po pochettino più curato ma ovviamente anche non sappiamo la provenienza di questa immagine che tipo di lavorazione sia uno fatto per gioco per i suoi nipotini o per i suoi figli o anche per se stesso o o altro o altra motivazione quindi la critica va presa con queste misure per carità non è una critica supponente questo voglio dire no quindi se vogliamo sviluppare un prodotto parliamoci no terra terra dobbiamo capire che questo prodotto dovrà avere una sua personalità ovviamente la persona che sta manipolando operando la progettazione di questo modello deve avere le sue capacità e prima come disegnista e dopo come tecnico di disegno grafico per poter passare questo a un linguaggio tecnico grafico e dopo ancora come produzione di un prodotto che alla fine può o non piacere al pubblico in generale per essere venduto cioè sono tre cose diverse e tutte e tre sono importantissime se dobbiamo a tenerci ognuno di questi approfonditamente se vogliamo creare un prodotto dopo vabbè no ma io volevo fare per per gioco è un altro discorso ovvio ma sempre queste questi tre aspetti devono essere presi in considerazione anche se magari qualcuno di questi tre o altri aspetti possono sfuggirci o magari essere considerati come non primordiali come non essenziali scusate ma il mio italiano non è che sia un granché quindi ogni tanto mi mi avvolgo nella lingua senza esprimere il concetto che volevo dire per mancanza di pratica nel parlare l'italiano comunque sia penso che si sia capito quello che volevo intendere no quindi da questa postura da questa c'è nel link del nel nella discussione del forum ho messo qualche link tanto per capire quasi gli estremi di come si può ricercare sul tema e quindi ho cominciato a vedere un po di sagome ovviamente questo lo sto facendo come un piacere ma questo che sto facendo qui è lavoro cioè io più più di una volta ho detto guarda prenditi una persona o impara i programmi perché i programmi se non se li studia ma questo voglio dire settimane settimane sopra a leggere a praticare anche uno però ho letto i manuali e beh sono cose da avere in mente che già la memorizzazione il sapere cosa fa un programma è essenziale e quello lo si può avere soltanto con la pratica di molti o tanti mesi per alcuni altri di pochi altri ancora per anni ci sono quelle che ci sono già da dieci anni non riescono nemmeno a fare un vettore per dire c'è la approfondire la conoscenza degli elementi strumenti dei programmi è essenziale senza questo non si fa nulla quindi da lì il mio suggerimento di vedere la tua difficoltà di lidare con i vettori uno suggerisce di vai a vedere questo vai a vedere e beh praticamente proprio non abbiamo visto cosa fai nel programma chiaramente deducendo si capisce che tu del programma ancora non lo conosci quindi avrai i tuoi limiti non solo per questo progetto come per altri è una semplice consultazione non è una critica il mio suggerimento di cercarti una persona non era affatto perché aveva tu sei incapace o no per carità dice vabbè ho preso la macchina ho preso cioè il programma adesso devo capirci qualcosa va bene ma si dia il tempo di studiare e di imparare il programma quello è un punto base detto questo quindi ho sono andato un po in giro ho detto vabbè perdiamo un altro po di tempo qui a provare a spiegare più che altro non insegnarti a farlo ma spiegare quello che ho detto e ovviamente alla fine qualche qualche qualcosina la la retrarai per tempo spero quindi ho ho fatto ricerche con le parole inglese vedi carrousel horse horse patterns come ho fatto con i puzzle stessa cosa cioè ricercando in inglese appaiono molto più risultati è chiaro ma io dell'inglese non lo so e vabbè è una limitazione non è mica colpa di google se tu non sai l'inglese cioè il fatto è che su google tanto per dire è un motore di ricerca ma c'è di tutto su internet parliamo così c'è di tutto se uno ha gli strumenti per cercare quindi la ricerca è fondamentale cioè conoscere i programmi la ricerca e dopo la pratica sono cose fondamentali ecco quindi ho fatto un po di ricerca ho trovato vedi questo qui è molto simpatico come sagoma diciamo che praticamente rispecchia questo qui no a parte la coda che è un po più ma dopo se non utilizzeremo le linee interne ad esempio questa del mento o della guancia per essere più preciso o questo qui della coscia e così via se non useremo queste linee qui si perde la sagoma come infatti qua si vede la c'è la sagoma gli elementi del cavallo non ci sono più c'è solo la sagoma questo volevo dire ma a noi tanto non cambia nulla vabbè faremo più che altro un tentativo o una prova di preparare uno o due tasselli qui come io li farei attenzione perché non è che io sia il mago del dei programmi cioè io con la mia poca esperienza comparato con chi lavora con questo professionalmente ho pensato che è così e quando si mi apparisse davanti di dover realizzare questi tipi lavori con quello che poco che conosco farei così ma non è che sia la soluzione unica nemmeno la migliore quindi scusa se ho fatto questa introduzione così lunghissima se non parlo non si capisce nulla no anche parlando non si capisce qualcuno dirà vabbè fa parte vai cioè quelli che sopportano uno che un italiano che non parla italiano bene stanno apposso quegli altri me ne farò una ragione quello mi peserà per tutta la vita essere italiano e non parlare bene l'italiano ma credo mi faccio capire quello è importante allora dicevo qua cioè si vede che il lavoretto non è stato fatto con grande che so io grande cura nel senso che c'è le gambe sono da schifo scusa e l'autore di questo cioè magari dice no ma io ho fatto così perché è più riconoscibile da da dai bambini vabbè cioè a me non piace ma non è una critica distruttiva è solo un commento per portarci a un riferimento migliore e magari da questo riferimento migliore che può essere questo qui può essere un altro un'altra sagoma da questo riferimento migliore dopo alla fine facciamo anche questo qui ma diciamo che le gambe qui sono un peccato faccio correre qua un po di questo qui non è poslato possiamo dirlo così non sono già fatti posle ma un quasi quasi a un accenno ma la sagoma è carina la sagoma è carina su questo volevo dire anche che magari c'è sul rosso se si fa un intaglio su questi posle che intanto sono in macchina se l'italia si fa un sulco non cambia più di tanto ma si potrebbe fare degli elementi della sagoma del no tre quattro linee ma insomma quello sarebbe quello già è la creatività dell'operatore quindi la che ognuno farà per sé ho fatto un po di ricerca ho visto le sagome che mi piacevano cioè quella prima in realtà questa è carina come 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 sagoma ok questa è molto simpatica come sagoma ma dopo si perdono tutti questi dettagli qui si perdono ma però abbiamo il movimento del delle dell'ossatura e della muscolatura delle gambe che è almeno riconoscibile come un cavallo no qua un po la avevo cercato carrosselli no cavalli per carrosselli scusate mi sono intanto non non so come si chiamano le cose per non averli mai pronunciato in italiano cavalli per carrosselli o da carrossello o qualcosa del genere e dopo un po di sagome ma vedi questa qui già anche può essere ma ci sono tante e la c'entra l'occhio dell'operatore ovviamente l'occhio che dovrà avere qualche training dietro perché sennò si fanno le cose a casaccio vieni appare tutto di tutto vedi questo anche carino anche se le gambe si possono un po separare la coda magari alzare e infoltire un po magari mettere qualche insomma c'è gli elementi per cercare ci sono questa è già la prima immagine della cartella che saranno 1500 solo di riferimenti che ogni tanto scarico per le cose che sto facendo devo fare insomma niente di speciale è una cartella in mezzo a decine di altri quindi cominciamo per mettere dentro artcam quella immagine lì diciamo che quel puzzle sarà che so io sto facendo con le mani 50 per 40 apriamo un progetto una buona risoluzione ma non avremo bisogno ma sempre interessante perché se vogliamo giocare con i colori siamo a posto con i pixel che non saranno molto invadenti dentro l'area di lavoro ok questa è l'area di lavoro adesso apriamo vettori apriamo bitmap non abbiamo bisogno di bitmap importiamo quell'immagine lì quella immagine lì che se non mi sbaglio l'abbiamo da qualche parte qui ok mettiamola tutta in che stia tutta qua dentro si è aperto ok non è una immagine non è un'immagine molto buona perché non ha troppa definizione dopodiché avevo detto guarda ma mi sembra molto ben fatti infatti i tasselli sono fatti così questo potrebbe indicare che questo lavoro è stato fatto tagliato a mano quindi è rimasto lo spessore della sega e dopo nel montare qualche angolino non è venuto tanto bene comunque compie la sua funzione per quello che vogliamo fare un riferimento dopodiché qui possiamo capire anche che c'è stato delle righe dritte basta tutto qua nemmeno proporzionate fra di loro e là si può fare qualsiasi cosa ossia ogni tassello può avere la forma che vogliamo noi anche volendo avere la forma degli elementi anatomici del cavallo ad esempio insomma non entriamo in questi dettagli perché come ho detto qua già entriamo nella creatività dell'operatore che saprà fare le sue cose quindi avevo detto nella 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 discussione che abbiamo tante maniere di fare ma basicamente dobbiamo prima cosa definire il disegno ossia troviamo la sagoma e cerchiamo di capire come fare con adesso prendiamo vai tanto se no chi guarda i video non capisce cosa stiamo parlando oppila non capisce di cosa stiamo parlando tanto vale andare lì nella discussione nel forum ok no tanto per aprire i link su cui abbiamo un po' di scorto che li ho trovati così senza fare sforzo eh questo là 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 cavalluccio vabbè andiamo qui oggi ho all'internet un po' l'entuccio un po' di pazienza allora non aveva beccato quindi qui faccio un po' di discorsi chi vorrà leggere leggerà vorrà capire capirà e ho detto che ci sono diverse maniere di arrivarci no questo qui è interessante tanto per cioè ci sono dei link con tanti tasselle cioè non tutti quelli anzi mi credo nemmeno tanti o pochissimi di questi qui saranno vettori che si possono acquistare ma quello non è un problema perché possiamo anche realizzarli possiamo riprodurli quindi e tenere scusi che mi è cominciato un video qui fermiamo questo qui e fermi e fermiamo questo qui ok torniamo lì quindi ci sono nella puzzle pattern ho messo no ci sono tanti tipi di puzzle e